Stiamo avvicinando sempre di più alla riva, vedete in lontananza i grattacieli di Resife e guardate il mare vicino a Riva come è turchese. Andiamo qua tutti in attesa dell'arrivo. C'è Iva, la nostra amica brasiliana che è nata qui, però è venuta via con la famiglia che aveva tre anni e si è trasferita poi a Rio, quindi per lei è una giornata molto emozionante tornare dopo 35 anni nella sua terra. Grazie. Grazie.